I Giapponesi per propiziare altre divinità che a quanto pare odiano gli uomini che indossino un qualsiasi vestito. E adesso non chiedeteci cosa stiano facendo tutti questi ossessi sia sopra che sotto il palco perché non ve lo riveleremo mai, nemmeno se sottoposti a torture. Le notizie ufficiali dicono che stanno pregando e noi a quelle ci atteniamo. Sì, d'accordo, è uno strano modo di pregare, ma che volete farci? Se non ci credete, pensate a quello che vi pare. In fondo mica l'abbiamo inventato noi il Giappone. Grazie